Si lo so, c'ha ragione, sono stato un po' uno stronzo l'ultima volta, è che veramente... Allora, Matteo, vado a salzitto! E scopa! Eh dai, eh dai! E' finito? Che vuoi? Ah sì, noi ogni sfida e ogni difficoltà abbiamo promesso che non l'avremmo affrontata, e non l'avremmo affrontata insieme, capito? Adesso io non posso permettere che un amico così da un momento all'altro decide di prendere in mano la sua vita, capito? Mentre io mi sto grattando le palle sul divano, capito? E questo è un problema, perché poi io mi sento in colpa, capito? Io mi sento in colpa, e se io mi sento in colpa, sai per cosa succede? Che devo affrontare la vita anche io, e a me di affrontare la vita non me va, a me non mi va! Non mi va di andare a lavorare, non mi va di mettere la sveglia alle sette e mezza, capito? Perché una vita, quella sveglia alle sette e mezza, è una vita che non vale la pena di essere vissuta, hai capito sì o no? Senza manco provarci! Con il rischio di fallire? Ma col cazzo, io non ci voglio manco provare!